100 messaggi con Lazza alle 7 e 38 minuti e già raggiunto qui in studio con noi Eribi, buongiorno Eribi! Buongiornissimo! Caffè? No, per favore, cominciamo già male, lo sapevo io. Buongiorno Eribi, allora come va? Tutto a posto, grazie, tutto a posto. È venerdì, quindi la settimana è finita, sei contenta? Ma meno male, soprattutto perché entra il mese più bello dell'anno. Ecco, giugno. Giugno. Perché è il mese più bello dell'anno? L'abbiamo già detto la scorsa settimana perché è il mese del mio compleanno. E soprattutto, sapete perché io sono contenta ultimamente che il mio compleanno sia giugno? Perché prima non lo eri? Allora, da 20 anni a questa parte sono molto più contenta perché giugno... Ma ti dico perché non eri contenta prima invece? Allora, tutti qua, io sono di luglio quindi lo so benissimo, chi festeggia dopo la fine della scuola non è mai contento perché quando sei bambino e ragazzino non puoi fare le feste con i tuoi amici perché sono giunti al mare. Sì, però ci devi mettere un aggravante perché è nato a giugno. No, ma quando si comincia a lavorare invece siamo tutti qua. No, l'aggravante di chi è nato quasi a fine giugno come me è che ha fatto tutti gli esami di stato il giorno del proprio compleanno. Io ho fatto l'esame in terza media il giorno del mio compleanno. La maturità, la prima prova o la seconda il giorno del mio compleanno. All'università esami a manetta il giorno del mio compleanno. L'università però non c'entra, chiunque fa l'università magari anche chi è nato a febbraio può fare un esame. Non c'è la sessione di febbraio. Chi è nato a novembre no però. A novembre non c'è un esame? Quasi mai. Ma non è vero, ci saranno. Ma no, non è vero. Comunque io sono sempre più contenta che il mio compleanno sia giugno perché è giugno, ma soprattutto quasi il weekend del mio compleanno è il weekend e il mese del Pride. Ah, vedi, vedi. Quindi un compleanno arcobaleno. Esatto, 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 esatto. Vuoi dire un'altra volta esatto? Esatto, esatto. Ma senti, ma manca qualcosa. No, non devi dire quello che manca, dire quello che abbiamo, che se non diventi la settimana a cui non andrai. Esatto, non c'è la mia sigla. Vuoi dire un'altra volta esatto? La faccio un'altra volta. Fanno un'altra volta. Diventi la settimana a cui non andrei. Questa è la sigla? Sì, è la sigla. Ok, va bene. Va bene, inizio allora. Va bene, è arrivato un WhatsApp da Adriana, al 3317853555, che dice Buongiorno belli, credo che non abbia sbagliato radio. Ma c'è visto, mi faccio. Fate fare sbagliato radio. Beh, i radio sono tutti belli, effettivamente. Sì, infatti, infatti. Va bene, inizio, inizio. Allora, molti di questi eventi sono all'aperto. Mi auguro che il tempo non faccio il guastafeste, però potrebbe farlo. Allora... Ma il weekend dovrebbe essere pulito. Allora, domenica alle 12.30, per tutti gli amanti di un determinato genere di svago, si possono trovare in City Life, perché ci sarà un bel picnic! Scusa, cos'è questo svago? Beh, è uno svago il picnic. Ah, ok. Tu quanti picnic hai fatto nella tua vita? Da ragazzino qualcuno, devo dire, al bosco in città. Io da bambina molti, ma poi si è un po' perso. Però conosco gente a cui piace andare a mettere giù il telo al parco e star là. Quindi andate a City Life, un picnic e divertitevi. Ma dove? Sul parco di City Life? Eh sì. Mezzagrattacene, picnic in mezzagrattacene. Potrebbe essere affascinante. Vabbè, se lo dici. Poi, poi... Ovviamente arriva già un WhatsApp. Sì, a me, a me, a me piace. Chi? Chi? Marilena ci scrive al 3317853535 che gli piace. Scusami perché ho detto chi. Però è più bello al parco Sempione. Ovvio, perché lei ha la passione per il parco Sempione. Ok, va bene. Che va bene. Sabato primo giugno dalle 19 nel cuore del parco Sempione, appunto, quindi Marilena prendi appunto, c'è la Notte Rosa. La Notte Rosa? Sì. Ma non era una roba di Rimi la Notte Rosa? Esatto, lo stiamo portando anche qua. Beh, non c'è molta differenza tra la movida riminese e la movida milanese. Diciamo che chi fa la movida a Milano l'ha esportata a Rimini e viceversa. A Milano Marittimo l'ha esportata. No. Vabbè, comunque. Quindi divertitevi anche lì, grossi premi Cotillon. Poi vuoi che ti dico una cosa un po' sfiziosa o una cosa che c'è tutti gli anni ma mi nervosisce? Allora, dimmi tutti e due, devi dirlo tutti e due prima. Di sapere che quale vuoi per prima. Prima la sfiziosa, allora. Allora. Teniamo il nervosismo per ultimo. Perlana. Conosci Perlana? Quello dello sacchiotto? Sì. Il prodotto per fare i lavaggi della lavatrice. Credo sia un nasce come morbidente, credo poi diventa anche un detersivo, una compagnia cantante. Ha aperto il suo Perlana Pop Lab. Ah, sì. In via Cristoforis, che è in zona Gaia Olenti. Sì. Dal 27 maggio al 2 giugno l'evento si chiama Perlana Pop Lab It's More Than Magic. Cioè, tutto un padiglione dedicato alla storia. It's More Than Magic. Sì. Cioè, tutto un padiglione, un pezzo dedicato alla storia di Perlana. Ci saranno giochi che riguardano fare il bucato, che sicuramente è una cosa molto divertente. E poi lo spot di Perlana era il nuovo, no, è lavato con Perlana. Sì, giusto. E quindi tutto avrà questa, diciamo, linea. Ok, la linea è quella lì, del nuovo, no, lavato con Perlana. Chissà se Gisella Cozzoro, la nostra ospedia, ha cantato anche per Perlana. Ah, può essere. Può essere. Poste italiane. Questa cosa ti ha flashato il cervello, saputo. Soprattutto perché stavo ascoltando la trasmissione davanti a un ufficio di poste. Ecco. Quindi ho detto, pensa te, che coincidenza. Plot twist. Plot twist. Ok. Comunque, ti piacerebbe andare al Perlana Pop Lab? Allora, devo dire, bello sì, posso dire Perlana, potevate usare un po' di più e farlo schiuma a parte a questo punto. Scusa, cioè. Certo. Cari amici della Perlana, io vi voglio bene, adoro il vostro sacchiotto e un uovo l'ho lavato con Perlana mi ha fatto crescere così, però vabbè comunque. Ma adesso, i vostri creativi, invece di pensare a More Than Magic. Ma è bello. Ma no, ma sono una roba chissà cosa. Invece è un bello schiuma a parte, è bello. Vabbè, vabbè. Poi, andiamo avanti. Abucinasco, cos'è? Allora, devo dire che i nostri ascoltatori, in questo caso Fabrizio da Opera, ci dice, ha capito lo spirito perfetto di questa manifestazione, di questo momento tuo e ci dice, vi prego, non andate alla manifestazione Amazing Days, da oggi fino a domenica Opera. Festival della cultura hip hop, un delirio, Fabrizio da Opera. Grazie Fabrizio. Grazie Fabrizio. Oddio, potrei avere gli eventi della settimana a cui qualcun altro non andrebbe. No, è uno spin-off. Bellissimo, questo è stupendo. Io adesso blocco il numero di Fabrizio, che ha questa idea che non va bene. Grazie Fabrizio, molto interessante. Quindi non andate a questo evento che si terrà a Opera. Amazing Days. Amazing Days. Da oggi fino a domenica a Opera. Da oggi. Festival della cultura hip hop. Che poi non andate, cioè andateci. Fabrizio non ci andrò, magari io ci vado. Che può dirlo? Io in realtà do consigli su cui voi potreste andare e dirmi, oh Erika, guarda che hai sbagliato. Ti sei persa la roba. Hai sbagliato. Tipo. Sai che bello il picnic, il city life. Oppure tipo, quello che adesso mi dirai che ti innervosisce tantissimo. Ah, quello che mi innervosisce tantissimo è il Milano Latin Festival 2024. È il terzo sull'astro sigadino. Sì, tra l'altro devo fare una piccola confessione. Anni e anni fa, quando veniva fatto ad Assago, non so per quale ragione una sera ci sono finita. Sì, anch'io. Ma proprio mi sono innervosita. Nota di colore, è la prima volta unica che ho visto mia mamma ubriaca. Perché un nostro amico ha detto, ti vuoi bere una caipirosca? Mamma mia mamma non sapeva minimamente cosa fosse una caipirosca. C'è la fragola, gli ha letto dentro. Ah, ottimo. Peccato che la fragola è una degli ingredienti oltre agli 85 alcolici che sono dentro. E lei l'ha bevuto, era molto contenta quella sera, devo dire. Beh, va bene, è importante che si sia divertito. L'ho vista a Lega, l'ho vista, sì. Ad Assago, appunto. Ad Assago, esatto. Cioè, questa volta invece viene fatta al Ticketmaster Arena. Ecco, al Ticketmaster Arena, sì. Ma sai dov'è? No. Ci sono passata, non me lo ricordo. All'Acquatica. Eh, infatti non mi ricordavo dove fosse. E lì, e lì, e lì. C'è qualcuno che ci ha scritto. Sì, Maria dice, no, non ero pronto a questa notizia, credo. Che cosa? Non lo so, perché non ero pronto, Maria. Maria, la scrivi, non si capisce. E sta correndo per andare a prendere la metro. Sì, sarà in ritardo come al solito. Sarai in macchina per andare a... Ah, sì, giusto. Sarai in macchina, perché vabbè, abbiamo questi ascoltatori un po' strani che ci ascoltano in macchina mentre vanno a prendere la metro. E tu dirai, ah, perché abitano lontano dalla metro, quindi vanno no. 500 metri. 500 metri. Vabbè. Un altro evento dove sicuramente non andrò è la festa dello sport a Buccinasco. Che c'è dal primo al 9 di giugno. Tutte le palestre di Buccinasco, we, 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 hanno l'apertura delle porte, delle loro palestre. Così si portano avanti un po' con le iscrizioni per l'anno prossimo e ci sarà sta festona. Tra l'altro tutta Buccinasco è tappezzata di questi ricordi dell'andare alla festa dello sport. Manifesti si chiama. Non mi venire con la parola manifesti. Ricordi per andare alla festa. Manifesti, volentini, cartelloni, pubblicità. Anche per me io non parlo tutti i giorni così tanto come fai tu. Non in radio. Eh sì. Tu parli molto lo sappiamo. Altro? The last. The last, ma not the least. È una cosa a cui non andrei però chapeau perché l'hanno inventata ed è bellissima. È la sagra del pollo di Giannasi, un'intera giornata tra cibo e musica domani, primo giugno, al chiosco Giannasi. No, fantastico. Io non lo so se non ci vado. Che figo il signor Giannasi. Eh sì, sì, sì. Un giretto ce lo farei, è quasi quasi. Eh ma se non lo mangi il pollo. Ma di Giannasi potrei mangiarlo. Allo spiedo. A me, ma fa anche le patatine. Fa anche altre cose. Fa le crocchette di pollo. Io andavo sempre al mercato da quello che fa il pollo allo spiedo, ma prendevo le crocchette di patate. Ecco. Quindi facevo così, facevo. Vabbè, ho concluso anche questa settimana. Bene, allora Eribi, grazie. Prego, prego, prego. Ti vedremo quindi dove, al Latin Festival. A nessuno di questi. A nessuno di questi. Neanche da Giannasi, no. Neanche da Giannasi, no. L'unico che mi piace è il Perlana Pop Lab. Ah vedi, ce n'è una che ti piace. Comunque ci tengo a dirvi che non ho preso l'antistaminico stavolettino. E si vede, mi vengo a dire, però. Questo è il problema. O meglio, non si vede la differenza. Cioè è uguale. No, dai. Non ti sta ingattando la faccia. Mi hai preso una ridarella che non sapevo neanche io come fare. Anche se anche a voi l'antistaminico fa questo effetto, ditecelo al 33178-5355. Grazie mille Eribi, ci vediamo settimana prossima. Buona giornata a tutti. Ciao Eribi, adesso un po' di musica.